Buonasera, buonasera a tutti gli aretini che sono collegati con noi a questa novantunesima puntata in diretta circa l'aggiornamento della diffusione di coronavirus nella nostra città e nella nostra provincia. Cominciamo con i dati cittadini. I contagi giornalieri, quelli riferibili a oggi rispetto a ieri, sono uno, uno soltanto. Il giorno precedente, ieri su ieri l'altro, erano zero. Purtroppo però durante la settimana si è notato un numero di alcune unità ogni giorno, per cui l'incremento settimanale rispetto al lunedì scorso oggi è più 15 persone, 15 contagiati, il che porta il totale cittadino a 187 contagi da inizio epidemia. Lo stesso dato riferito invece alla provincia porta più 56 contagiati in una settimana, il che porta il numero dei contagiati in provincia per la prima volta a superare il migliaio di unità. Oggi i contagiati in provincia sono 1027 e ogni giorno ne abbiamo avuti due ieri, 9 il giorno precedente, 7, 13, 12, quindi un numero sicuramente eccessivamente elevato. Per rimanere al dato cittadino mi preme ricordare che questi più 15 che portano a 187 i contagi settimanali, diciamo i contagi totali, in realtà portano ai soggetti quarantenati oggi 262, il che è un lavoro significativamente elevato per il Comune di Arezzo. Da tener conto che in questi 262 abbiamo ben 54 da inizio pandemia minori e questi sono aumentati nell'ultima settimana, cioè oggi rispetto a ieri, di 20 unità che sono la classe della scuola nella quale un insegnante ha risultato positivo. Quindi l'intera classe è stata messa in quarantena. Ovviamente è stata messa in quarantena venerdì, i dati si sono avuti oggi e quindi oggi sono entrati nel numero che rappresentano la statistica. Prima di passare al dato regionale, quello che mi preme darvi come dato, salvo poi il commento che facciamo tutto insieme, è quello che sta avvenendo nelle nostre strutture sanitarie. Infatti al San Donato dopo settimane che eravamo con praticamente assenza o quasi di degenze relative al coronavirus, abbiamo più 10 soggetti ricoverati in malattie infettive e più 3 in terapia intensiva, il che vuol dire che il coronavirus sta arrivando dalle quarantene all'ospedale. Questo significa che la situazione sta progressivamente deteriorandosi. Passiamo al dato regionale. Il dato regionale ci porta a una differenza giornaliera oggi rispetto a ieri, ma ricordo che oggi è lunedì, quindi lunedì sono sempre più bassi i contagi che si verificano perché i tamponi del fine settimana sono sostanzialmente più bassi come numero rispetto a quelli che si fanno durante la settimana. E comunque oggi rispetto a ieri sono 84. Il numero totale di contagiati in Regione Toscana dall'inizio pandemia sono 13.896. Il dato, questo sicuramente importante, non dico allarmante, ma importante, degno di attenzione, è il dato settimanale della Regione Toscana che porta a un incremento di più 723 casi in una settimana, veramente tanti. Se andiamo a leggere, prego la regia, il nostro amico Giovanni Bonacci di far scorrere il sottopancia con il dato nazionale, noi vediamo che i positivi nazionali di oggi rispetto a ieri sono più 981 che portano a un totale di, io ho numeri leggermente diversi, di 45.079. Vedo invece il dato riportato da Giovanni è più 937 e quindi un totale di 44.098. Non so perché c'è questa differenza. Purtroppo i deceduti anche aumentano, più 17 rispetto al giorno precedente e quindi 35.724 sono gli italiani che non hanno superato il coronavirus. Se andiamo ai guariti scopriamo che sono aumentati di 352 unità portando a un totale di 218.703. Dato importante odierno più 1.350 casi totali che portano al totale generale da inizio pandemia in Italia a 299.506. Vedo che ci sono i dati corretti adesso riportati da Giovanni Bonacci che ripercorrono quelli che gli ho appena dato. Quindi dati significativamente in crescita. Pregherei a questo punto la regia di farci vedere un po' di grafici su questi numeri per poter fare un commento generale. Commento che riguarderà sicuramente Arezzo e la provincia ma sicuramente anche quello che avviene in Italia e purtroppo quello che avviene in Europa e un po' anche nel mondo. Perché voi sapete che questa è un'epidemia di tipo mondiale. Allora questo è il dato positivo cumulato del comune di Arezzo dove si riconosce con estrema chiarezza un andamento a partire dal 21, 22, 21, 28 agosto quindi da fine agosto, eccolo lì bravo Giovanni un incremento, un'impennata di casi eccessivamente elevato. Vedete come la pendenza di questo ultimo tratto è addirittura maggiore rispetto alla tendenza in crescita dello stato iniziale quando eravamo sotto lockdown. Quindi il trend è maledettamente più elevato rispetto a quello che era allora. E questo ci apre sicuramente una preoccupazione elevata. Vediamo il grafico successivo. Positivi giornalieri, anche qui si vede bene come c'è stata una recrudescenza dei casi giornalieri che porta numerosi casi giornalieri ad Arezzo di diverse unità non si raggiunge il top che abbiamo avuto il 17 di aprile con 10 casi contemporaneamente nello stesso giorno ma 9 sì, l'abbiamo avuto due settimane fa. Quindi siamo in una fase sicuramente poco gradevole. Soggetti in quarantena, il dato cumulato lo vedete qui è cresciuto nuovamente a partire dai primi di agosto ed era inevitabile visto l'andamento dei contagi. Andiamo avanti. Credo che abbiamo un grafico sì che ci dà in provincia di Arezzo il dato cumulato. Anche qui vedete come c'è un'impennata dei dati positivi che fa capire come in realtà questo problema non sia un problema della città di Arezzo ma un problema generalizzato in provincia. Andiamo avanti. Ci sono anche dei dati europei, se non ricordo male, di averli visti poc'anzi e anche dei dati che rappresentano il globo terracqueo con colori diversi a seconda del numero. Eccolo qua, questo è interessantissimo. È il caso che rappresenta l'area dell'Unione Europea, EU, l'area dell'Eurozona, IEA, e l'area del Regno Unito. Allora si vede come, e questo è molto interessante, addirittura i picchi di contagi di quest'ultimo periodo siano addirittura maggiori dei picchi di contagi che avevamo avuto durante il periodo, eccolo là, del lockdown. Il che vuol dire che sta ripartendo tutto in maniera drammaticamente veloce. I paesi che hanno il maggior problema in questo momento sono la Spagna, lo si vede con il colore giallo, sono la Francia con il colore grigio scuro e quel verdino che vedete lì tra mezzo è il Regno Unito. L'Italia non è così male in questo momento rispetto a questo panorama, ma ricordiamoci che le frontiere sono aperte, quindi in realtà un problema di trasmissibilità di questo maledettissimo virus oggi esiste. Se poi guardiamo, credo che sia il prossimo, il dato geografico mondiale, eccolo qua, l'abbiamo visto anche una settimana fa, è un dato allarmante, questo è il numero di casi per centomila abitanti negli ultimi quattordici giorni, negli ultimi due settimane. Allora, vediamo che l'Italia ha il colore giallo chiaro, abbiamo una media di circa 20 casi per centomila abitanti negli ultimi quattordici giorni. Guardate come, ormai il Sud America, lo sapevamo, è marronesculo, più di 120 casi per centomila abitanti. Gli Stati Uniti stanno relativamente male, vedete sia gli Stati Uniti che l'Alaska sono messi relativamente male, sono a più di 120 casi per centomila abitanti, ma il dato che ci interessa forse più da vicino di tutti è quello europeo. E allora vediamo, non soltanto che Francia e Spagna, Croazia e il paese immediatamente sopra che è la Repubblica cieca, sono con il colore marrone scuro, ma anche altri paesi come l'Austria, come la Romania, hanno quel marrone scuro come l'India d'altronde, che ci mettono in questo momento in grande difficoltà perché nell'Europa il traffico, come l'Inghilterra, d'altra parte il Regno Unito, come il Portogallo, come il Marocco, abbiamo dei problemi seri di trasmissibilità da questi paesi che presentano casi numericamente difficili da contenere nella nostra Italia. Allora, venendo agli ultimi commenti, prima di parlarvi del lavoro della Polizia Municipale, vorrei dire che questo incremento progressivo a retino, provinciale, regionale, nazionale, europeo, mondiale ci deve far riflettere circa il fatto che abbiamo la necessità di riattivare necessariamente e obbligatoriamente tutte le cautele per evitare il contagio. Sappiate che con questi positivi tipicamente asintomatici o, come dicono i medici, paucisintomatici, cioè con poca rilevanza dal punto di vista clinico, quindi senza febbre, con po' di raucedine o poco mal di gola, poca tosse, in realtà non sono riconoscibili. E quindi se noi ce li troviamo davanti non rischiamo di prenderci ancora a nostra volta il virus. Quindi è fondamentale l'uso della benedetta mascherina. È un qualche cosa che non costa fatica a portare. Magari in certe situazioni se uno si deve fare via Cisalpino da Piazza San Francesco al Comune, come spesso capita di fare a me, arriva a metà che tira il fiato. Ma non importa, va tenuto, va tenuto. Scegliete anche una mascherina, vi consiglio questo, che sia facilmente sanificabile o a monouso come questa, che si butta via dopo che la sia usata e soprattutto che vi consente di respirare un po' meglio. Ma tenetela alla benedetta mascherina. L'altra attenzione è lavarsi spesso le mani o sanificarle con i gel che tutti ormai troviamo in tutti i pubblici esercizi e molto frequentemente negli uffici pubblici per avere le mani sempre il più possibile pulite. E l'altro fattore fondamentale, teniamo la distanza di interpersonale di almeno un metro, consigliata a un metro e ottanta. Sono le uniche tecniche, precauzioni che ci consentono di stare fuori dal tema del contagio. Se dovesse continuare a crescere il contagio con il trend che ci ha mostrato negli ultimi giorni, negli ultimi settimane, necessariamente in Italia dovranno essere prese delle misure. E come vi ho detto più volte, le misure che sono state prese di chiusura generalizzata del paese, il lockdown dei mesi di marzo, aprile e maggio, non sono ripetibili, perché se fossero ripetibili nuovamente e dovessimo veramente andare a una chiusura generalizzata, questo paese chiude bottega. La nostra città non avrebbe modo di rialzarsi una seconda volta da un'altra chiusura. Quindi dobbiamo far di tutto per tenere il contagio lontano da noi. Fatemi dare le ultime notizie riguardo a quello che ha fatto la nostra polizia locale che è sempre sul pezzo. Effettuati controlli durante il fine settimana nelle sere di venerdì e sabato in centro nella città, nella zona della piazza della Badia, via Saffi, via De Pecori, rispetto alle norme anti-covid e sono state, diciamo, elevate dieci, sono state contestate dieci violazioni. Quindi evidentemente le persone ancora non hanno imparato a convivere in un modo, come vi ho detto prima, da renderli indipendenti dall'eventuale contagio. Controlli mirate nelle aree del mercato, sostanzialmente al mercato Giotto, verifica delle occupazioni del suolo pubblico nella zona della Movida, denunciate all'autorità giudiziaria quattro persone per favoreggiamento e per ubriachezza molesta e infine effettuate i servizi giornalieri con il personale della polizia locale, questo è un altro grande contributo che la polizia locale dà, all'azienda sanitaria locale per l'effettuazione di circa 900 tamponi settimanali presso lo stadio con il sistema del drive-thru. Istituito un servizio presso la stazione per il controllo dei tamponi per i viaggiatori in possesso di biglietti del treno in numero di circa 750. Infine controlli domiciliari per il rispetto della quarantena. Attualmente, come dicevo prima, sono circa 275 i soggetti con l'obbligo di questa misura. Ricordo che questa misura si porta dietro il controllo da parte della polizia locale per la permanenza di soggetti quarantenati in casa, ma comporta anche un altro tipo di servizio da parte dell'azienda che segue la raccolta dei rifiuti solidi urbani, che va a casa delle persone in quarantena a ritirare in sacchi speciali, opportunamente isolati, il prodotto dell'attività domestica che deve essere poi tenuto separato, portato all'impianto di San Zeno in maniera separata e a tutta una sua strada per la eliminazione. Perché evidentemente può contenere, anzi contiene con quasi certezza, il virus. Quindi è un lavoro in mano, un lavoro importante che l'amministrazione comunale fa, è quel lavoro grazie al quale insieme a voi, insieme a voi, nel periodo del coronavirus più cattivo, più tremendo, quello che ci ha portato alla chiusura totale, ci ha consentito di mantenere la città pulita, città che oggi si può ancora porre in maniera corretta nei confronti delle sue attività. E quindi, cari amici, io vi ringrazio per quello che avete fatto in passato, ma mettetevi veramente una mano sulla coscienza e pensate seriamente a mantenere attiva e viva la vostra attenzione circa la possibilità barra necessità di evitare il contagio. Con questo vi lascio, abbiamo chiuso in un quarto d'ora esatto e vi ricordo le tre regole d'oro, indossare la mascherina, sanificare spesso le mani, tenere la distanza di un metro, meglio se un metro e ottanta, stiamo lontani fisicamente, stiamo vicini col cuore e vedrete che ce la faremo. Grazie. 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 Grazie.